La presenza di Tirol Il Parlamento austriaco Barbara Pramer È stata lei di introdurre l'argomento della serata incentrata sulla storia, il presente e il futuro di questa zona dell'Europa centrale Guardi, è sempre così che il film può riportare certe immagini, però non tutta la verità, tutti i sacrifici, tutto ciò che è stato accaduto e tutto ciò che è stato fatto Però io credo che abbiamo dimostrato che la quietanza liberatoria non è la fine di un'avvertenza, è l'inizio anche di un altro periodo Abbiamo fatto riferimento a tutto il passato, cioè agli anni 20, 30, 40, diciamo alla lotta negli anni 60, poi alle trattative negli anni 60, 70, eccetera Però dopo abbiamo avuto la possibilità di dire che noi abbiamo riempito con spirito tutte queste clausole, tutte queste competenze Oggi siamo diventati una regione europea, una regione dove viene collaborato nonostante i confini esistenti Dove c'è una popolazione che appartiene al passato nei pensieri, però è aperta anche all'Europa moderna Cioè dove tradizione e futuro vengono collegati e questo secondo me è importante Il domani della collaborazione tra Bolzano, Trento e Vienna si chiama Euregio Così il già presidente dell'Antirolo Wendelin Weingartner Una regione dove i confini vengono superati dalla volontà di cooperare e lavorare insieme Per un futuro all'insegna della convivenza e del benessere Proprio il futuro della collaborazione tra Alto Adige, Trentino e Tirolo trova applicazione in ambito Euregio Non dimenticare il passato per guardare con entusiasmo e fiducia al futuro Io ho avuto la possibilità che oggi anche in base alle direttive europee, in base alle possibilità che abbiamo Che oggi abbiamo la possibilità nonostante i confini che possiamo collaborare Possiamo fare programmi comuni e possiamo realizzare anche questi programmi Cioè i confini anche se amministrativamente ci sono, però sono superabili Noi siamo diventati una piccola Europa dove le regioni possono collaborare E possono superare quei nazismi cattivi degli anni passati Il presidente della sottocommissione parlamentare per l'Alto Adige, Herman Garra Ha ripercorso le parti salienti della storia del Tirolo Dall'avvertenza altotesina del 1992 fino ai giorni nostri Dall'avvertenza altrimenti della storia del Tirolo